Virnagnudi, titolare del baretto di Galliera, qui sono stati vinti 14 milioni di euro sabato scorso. Avete idea di chi possa essere il fortunato o chi possano essere? No, al momento non abbiamo idea. Eravamo partiti all'inizio con, pensavamo, che potessero essere diverse persone, poi invece da ieri a questo notizio che è venuto sul Germano, ci hanno spiagnotato, non sappiamo assolutamente chi possa essere. Capito. Quindi non è un cliente abituale, qualcuno che viene qui, anche perché l'orario è 8 e mezza, 9 e mezza, magari è qualcuno che lavora, voi pensate sia del paese? Questo non so anche perché la schedina è stata fatta nel suo tempo, dalle 8.50, nei momenti di venerdì mattina. Uno, c'è il problema che c'è, c'è il punto di usso, il punto di usso di orario della mattina. In più, il problema grande è che la schedina da 2.50 è l'una di quelle più più giocate. Il punto di usso, le 2.50 sono quelle più giocate. Se fossero un po' più diversi, allora forse, ma così è veramente difficile.